Il concorso internazionale Leopold Bellan dove abbiamo ottenuto il primo premio di categoria della categoria Ensemble Vocali, premio d'onore. Ciò che ci ha detto una meravigliosa musicista che era un giurato parlava un po' in italiano e ha detto voi siete il mio prochain, mi avete oggi rinnovato la musica. Un percorso che è iniziato con un altro concorso che è il team che abbiamo fatto l'anno scorso a luglio a Torino che lì ci confrontavamo con centinaia e centinaia di artisti di tutto il mondo. È un altro concorso in network che è Osaka in Giappone che è praticamente quello che ci manca quindi stiamo già pensando di organizzarci per andare a quello. Tra l'altro essendo finaliste ma soprattutto vincitrici di diritto abbiamo la possibilità di accedere a questo concorso quindi siamo già in finale lì. Allora le Glorious si incontrano nel lontano 1999 come studentesse di un'unica scuola di musica in un progetto che si chiamava ai tempi Progetto Suono Choir and Band fino ad arrivare al 2012 con il nome Glorious Vocal Quartet deciso da noi e da lì è partito questo progetto vocale professionale quindi abbandoniamo diciamo un po' la vita studentesca per intraprendere questa strada da artiste. La particolarità è appunto la vocalità che mette insieme come un unico piatto possiamo dire tanti generi che noi amiamo tanto. Dal pop, al jazz e devo dire al funky mettiamo insieme tutto ciò che amiamo senza farci preconcetti di genere. Queste particolarità di ognuna si incastrano alla perfezione anche perché un minimo tutte noi abbiamo comunque un'infarinatura, un'esperienza di base di quelli che sono gli altri percorsi del jazz, del birico, del teatro eccetera eccetera quindi questi saperi collaborano e si incastrano benissimo.